sempre la demo room di asus alla cs 2018 andiamo a fare una carrellata con i loro nuovi mini pc partendo da questo che è un chrome box di terza generazione l'abbiamo messo a confronto con quello di seconda generazione come vedete le dimensioni sono nettamente maggiori perché hanno dovuto cambiare dimensioni prima di tutto perché ha bisogno di una maggiore dissipazione in quanto monterà processori più potenti resi necessario dal fatto che questa macchina avrà il play store e quindi avrà l'accesso a tutte le applicazioni per android alcune delle quali richiedono come esempio i giochi un elevato livello di prestazioni e per dissipare queste prestazioni hanno bisogno di uno chassis più ampio in secondo luogo per offrire sui lati un maggior numero di interfacce di porte andiamo a vedere un poco se si trova infatti sui lati frontalmente c'è qui un jack audio combo due porte usb full size un lettore per schede micro sd sul lato destro c'è questo aggancio per il lucchetto kensington sul retro la griglia per il sistema di dissipazione di raffreddamento con ventola una ethernet rg 45 altre tre porte usb full size una hdmi out una type c 3.1 gen 1 e questo il connettore di alimentazione all'altro lato non c'è nulla sul fondo vediamo ci sono queste due viti per eventualmente agganciarlo sul retro di qualche monitor in alto c'è questa cover molto semplice in plastica con il logo chrome qui nell'angolo ma quello che è più interessante è che questo nuovo chromebox 3 vi mostro il cartellino che prende la sigla cn 65 avrà processori intel core di ottava generazione purtroppo non disponiamo di tutte le informazioni su questa macchina sappiamo soltanto che monterà memoria ddr4 vogliono fare un lancio forse un po più in grande stile più la nel corso dell'anno verso il mese di febbraio andiamo avanti nella nostra carrellata sui mini pc di asus aggiornati per il cs 2018 questo è il modello un 68 u ed è quindi un aggiornamento potete vederlo di un modello che era già in commercio stesso chassis con processori aggiornati intel core di ottava generazione quello sul fondo invece è un modello sicuramente più interessante e completamente nuovo inedito si tratta di un nuovo design che hanno ideato per mantenere gli ingombri compatti e per consentirvi una migliore facilità di accesso ai componenti interni vi mostro infatti quanto è facile accedere al vano per i componenti interni c'è qui una freccia basta far scorrere questo pannello in direzione della freccia e poi lo possiamo aprire sull'altro lato di questo pannello c'è il drive da due pollici e mezzo per l'hard disk mentre invece all'interno del box abbiamo tutti gli altri componenti e cioè uno slot anzi due slot per memoria so dim uno slot per card wireless e due slot m.2 full size si richiude con altrettanta facilità sui lati del telaio possiamo vedere ci sono una serie di interfacce qui sul retro c'è una porta com hdmi displayport rg 45 2 usb full size 3.0 plug di alimentazione su tutti i lati ci sono una serie di aperture per favorire la ventilazione il raffreddamento dei componenti interni frontalmente un multi jack una type c un'altra usb 3.0 e questa usb col dentino giallo per la ricarica rapida qui in alto c'è il bottone per l'accensione uno chassi molto compatto squadrato con un nuovo look e soprattutto con dissipazione completamente fan less sono le caratteristiche di questo asus pn 40 la versione pn 40 supporta processori gemini lake pentium silver in particolare credo mentre ci sarà anche una versione pn 60 per processori intel core a questo punto penso anch'essi di prossima generazione arriverà sul mercato a partire da febbraio o comunque ci dicono entro la fine del primo trimestre dell'anno